Musica In questo numero, EULAR 2013, le ultime novità in reumatologia, dalla ricerca alla terapia. Lista d'attesa è incubo per gli italiani, oltre un anno per una mammografia. Caso diabete, così l'Italia guida la svolta nelle terapie cellulari. E ancora, compie 25 anni il centro trapianti di Midollo Osseo di Palermo. Il vero o falso di questa settimana parla di pericoli al mare per i bambini. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. In una Madrid dal clima estivo, dove pullono turisti e insegne dei comprooro, spia di una crisi economica che nella capitale spagnola si vede soprattutto dal numero di appartamenti in vendita e dalle offerte nei negozi, un piccolo esercito di 14.000 tra medici, ricercatori, rappresentanti di associazioni di pazienti e dell'industria, ha animato il 14esimo congresso europeo di reumatologia. Nei quattro giorni di EULAR 2013 si è fatto il punto sulle ultime novità in reumatologia, dalla ricerca alla terapia, da dispositivi per rendere più semplice la vita dei pazienti alle richieste degli stessi malati. Un summit con numeri impressionanti, 250 speaker invitati e circa 4.000 abstract, l'86% dei quali focalizzati sulla clinica. La maggior parte dei lavori, ha spiegato Maxime Dugados, reumatologo francese presidente uscente di EULAR, arrivano da autori europei, ma tutti i continenti sono rappresentati in questi studi. Gran Bretagna, Giappone e USA sono i tre paesi in cima alla classifica, in termini di abstract, sottoposti alla commissione quest'anno, seguiti dall'Italia. E proprio dal bel paese arriva uno studio presentato a Madrid, che apre a nuove prospettive di cura per i bimbi che soffrono della forma più grave di artrite a esordio in età pediatrica, quella idiopatica giovanile sistemica. L'artrite idiopatica giovanile sistemica è la forma più grave di artrite cronica nel bambino, è una malattia potenzialmente molto invalidante. Lo studio che dura oramai da alcuni anni dimostra un sempre maggiore aumento e consolidazione dell'efficacia con il 60% dei pazienti in malattia clinicamente inattiva e il 60% dei pazienti senza corticosteroidi. I bambini che hanno questa malattia non crescono, hanno un difetto di crescita che è molto importante e quello che abbiamo osservato è non solo un aumento significativo della crescita, ma proprio quello che lei ha chiamato scatto, cioè una crescita di recupero, per cui i bambini recuperano centimetri, ma soprattutto centili, portandosi verso la norma. Protagonista il tocilizumab. Nell'artrite sistemica è stato approvato con una procedura rapida. Un anno e mezzo fa, nell'artrite poliarticolare, è stato approvato dall'EMA e dall'FDA circa un mese fa un altro nuovo strumento nell'armamentario di noi reumatologi pediatri. Articolazioni, muscoli, tendini e non solo, i bersagli delle malattie reumatiche, oltre 100 tipi diversi di patologie, sono molteplici e si stima che oltre 120 milioni di persone in Europa ne soffrano. Si tratta di una famiglia di malattie che assorbe circa il 25% dei costi sanitari totali dei paesi europei, spiegano gli esperti dall'Eular. Lavoro e carriera, ma anche normali attività quotidiane, umore, hobby e persino i rapporti con gli altri sono nominati dall'artrite reumatoide. Una sorta di ruggine, illustrata da alcune foto in mostra nei giorni dell'Eular, che rende difficili i movimenti come fare le scale o prendere una penna in mano, come mostrano dei dispositivi realizzati per permettere ai sani di vivere per pochi attimi il peso della malattia. Liste d'attesa, incubo per i pazienti italiani, oltre un anno per una mammografia, nove mesi per un ecodoppler o una coloscopia, e ancora, un anno per una visita urologica, dieci mesi per quella preumologica. Questi tempi medi delle liste di attesa in sanità, emersi dal rapporto PIT-Salute 2013. Insomma, tempi biblici per accedere ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale, sempre più dilatati. Se si confrontano gli ultimi dati 2012, delle attese con quelli dell'anno precedente, notiamo infatti che, ad esempio, per una mammografia nel 2011, si attendevano mediamente 11 mesi, per un ecodoppler 6 mesi, per una visita urologica 11 mesi. Le lunghe liste d'attesa sono la prima voce tra quelle segnalate relative alle difficoltà di accesso ai servizi sanitari, ben il 74,3% del totale. Il 37,2% riguarda le attese per gli esami diagnostici, mentre il 29,8% fa riferimento alle visite specialistiche. Un'altra parte rilevante delle segnalazioni, 28,1%, si concentra attorno alle richieste di ricovero per intervento chirurgico, mentre quasi il 5% rappresenta gli accessi per terapie oncologiche, quali chemioterapia o radioterapia. Tra le altre segnalazioni, il maggior ricorso all'intramenia, a causa proprio dei tempi eccessivi nel pubblico, e l'insostenibilità dei costi del ticket. È il diabete la terra dei pionieri della scienza. Mentre in Italia enfoca il dibattito sulle promesse rigenerative delle staminali, la malattia del sangue dolce fa da che esistori con il trapianto di isole di Langerhans. Dal pancreas di un donatore si isolano cellule produttrici di insulina che vengono impiantate nel fegato del ricevente, una frontiera su cui il Made in Italy ha impresso una svolta con tecniche e farmaci. Nel diabete ormai abbiamo una terapia cellulare che possiamo definire standard clinico per alcune indicazioni e che sta ponendo una serie di problemi perché nel momento in cui ci sono terapie innovative anche il nostro modo di ragionare in qualche maniera deve cambiare sia nel campo regolatorio, sia nel campo della ricerca farmacologica, sia nel campo della possibilità di applicazione su larga scala nei pazienti. Gli italiani stanno dando il loro contributo. Al San Raffaele di Milano un'equipe di scienziati ha ricostruito per la prima volta al mondo parte delle funzioni del pancreas nel bidollo osseo e dal mondo della farmaceutica arriva una molecola targata ad un PEC che punta a migliorare l'efficienza del trapianto di isole. Il farmaco innovativo è in fase 3 di sperimentazione, la sua culla, il polo industriale dell'Aquila. Dobbiamo sostanzialmente continuare nel misurare l'innovazione nel in qualche modo accertarsi che l'innovazione sia un'innovazione vera e dobbiamo premiarla. In Europa e negli USA sono oltre 100 l'anno i trapianti di isole pancreatiche. In Italia si eseguono una ventina di trapianti da donatore e da 10 a 14 trapianti autologhi. Una volta che sarà possibile effettuare questi trapianti senza terapia immunosoppressiva diventerà imperativo trovare delle fonti di cellule che producono insulina che possono trattare tutti e decine di milioni, centinaia di milioni di pazienti al mondo affetti dal diabete che potrebbero beneficiare di questo tipo di terapie. 1356 trapianti effettuati in 25 anni di attività. 13 trapianti da cordone umbilicale. Ogni anno si realizzano una media di 70 procedure di trapiantologiche tra auto e allotrapianti. Un'iniziativa organizzata con il contributo non condizionato di Selgin, azienda leader nel settore delle biotecnologie e dello sviluppo di terapie innovative nel campo delle patologie oncoematologiche per festeggiare i 25 anni di attività del centro trapianti di Midollo Osseo ed il conseguimento dell'accreditamento JSI che rappresenta un sistema di qualità internazionalmente riconosciuto. Quest'anno abbiamo ricevuto questa importante certificazione di accreditamento secondo standard di qualità applicati al trapianto di cellule staminali che è anche oltre a essere una garanzia per i pazienti perché vuol dire che vengono erogate cure ad elevato livello qualitativo grazie all'Admo per esempio in parte al ricavato della partita del cuore abbiamo costruito l'attuale centro trapianti. Dobbiamo impegnarci molto di più sia a livello governativo sia a livello regionale perché l'amore per donarsi tra la gente c'è basta testimoniare anche con i comportamenti nostri della classe politica e tutti si sentiranno più incentivati a darsi per salvare qualche vita. Oggi è un giorno importantissimo per il servizio sanitario regionale non solo oltre a celebrare i 25 anni di attività del centro trapianti di midollo osseo di una storica azienda che oggi è l'azienda ospedali riuniti di la Sofia Cervello si celebra un livello di qualità di cure nel campo ematologico sicuramente impensabile 25 anni fa. E' vero che gli occhiali da sole non sono necessari ai bambini? No, è falso questo. Soprattutto quelli con gli occhi chiari devono essere protetti fin dalle prime età ma in generale tutti. Se il bimbo ha mangiato non deve fare il bagno per almeno tre ore? Beh, in linea di massima sì. Chiaramente bisogna anche tener conto dell'interdipasto se il panino è molto piccolo o volendo possono anche essere due ore però in linea di massima è bene non fare il bagno subito dopo mangiato. E' vero che in estate ai bambini va messa sempre la crema protettiva dal sole? Assolutamente sì, deve essere un fattore di protezione elevato. I bambini vanno protetti dal sole fin dalle prime età. Ai bambini può avvenire la febbre anche alta in seguito a forti sbalzi di temperatura? Ah, in seguito a esposizione di calore, senz'altro il famoso colpo di calore che deve essere prevenuto, appunto evitando l'esposizione nelle ore più calde del giorno nell'esposizione diretta al sole e utilizzando sempre un bevetto in testa. I bambini, se ben protetti, possono stare al mare anche tutto il giorno? Beh, direi di sì, soprattutto però in base all'età. Quelli più piccoli forse fargli evitare le ore più calde del giorno è preferibile. Ai bambini troppo piccoli fa male mangiare cozze, vongole, gambari o steppie? No, non ci sono limitazioni particolari da questo punto di vista secondo quelle che sono i dettami della moderna scienza dell'alimentazione del bambino però devono essere alimenti di provenienza sicura. Una conversazione a distanza tra i piccoli ricoverati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e i bambini del Giffoni. È la suggestiva iniziativa tra l'ospedale pediatrico romano e il Giffoni Experience festival del cinema in programma dal 18 al 28 luglio. Giunta al terzo anno, la collaborazione tra Bambino Gesù e Giffoni Experience è diventata ancora più stretta con tante nuove iniziative a partire dall'istituzione del premio Bambino Gesù ma anche i film Disney restaurati e trasmessi per i piccoli ricoverati gli spettacoli con burattini e le animazioni nei reparti. Il neonato premio Bambino Gesù sarà assegnato nel corso della cerimonia finale del Festival Giffoni decretando il vincitore dell'edizione 2013. Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato a chi si è contraddistinto per aver raccontato con sensibilità, verità e delicatezza il mondo dei bambini, i loro sogni e le loro aspirazioni per aver riacceso nello sguardo degli adulti la fiamma antica e vibrante dell'effervescenza infantile. Da quest'anno anche i medici in pensione devono dichiarare i redditi libero-professionali al proprio ente previdenziale. Un obbligo non voluto dall'Empam ma imposto da una legge dello Stato. Lo riferisce a una nota pubblicata sul sito web della Fondazione che precisa Lo stesso provvedimento legislativo ha stabilito che chi è in pensione deve pagare i contributi con un'aliquota pari ad almeno la metà della misura ordinaria. Nel caso dell'Empam il contributo ordinario è del 12,5%. Per questa ragione i medici e gli odontoiatri over 65 sui redditi prodotti nel 2012 pagheranno il 6,25%. I contributi versati comunque non andranno persi. Ogni tre anni infatti l'Empam ricalcola le pensioni e le aumenta in base ai nuovi versamenti fatti. Occhiali da sole must per il 52% degli italiani, ignorati da bimbi e anziani. Con la bella stagione è fondamentale proteggere gli occhi ma solo il 60% degli italiani utilizza gli occhiali da sole e di questo il 30% non li indossa quasi mai o mai. Il 18% raramente e dunque soltanto il 52% li ritiene indispensabili. Insomma, nonostante siano un vanto del made in Italy gli occhiali da sole non sono ancora diffusi ovunque nel bel paese e a usarli sono soprattutto i giovani adulti dai 25 ai 54 anni. Bambini e anziani sono invece le categorie più a rischio. Solo l'11% dei giovanissimi e il 10% degli over 55 portano lenti da sole. Sono i dati della ricerca della Commissione Difesa Vista presentati oggi. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salutechioccioladncronos.com Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.